Entrata a far parte della Nato nel 2009, l'Albania cerca di svecchiare il suo arsenale. Il primo ministro Edirama ha scritto sulla sua pagina Facebook che il Consiglio Nato del Nord Atlantico ha deciso di investire 50 milioni di euro per modernizzare la base aerea di Kuksova, 80 chilometri a sud della capitale tirana. La base esiste da decenni, adesso potrebbe diventare un appoggio per le operazioni di rifornimento aereo della Nato, un centro per il supporto logistico, la polizia aerea, la formazione e le esercitazioni. E' già in corso peraltro una trattativa fra tirana e Stati Uniti per modernizzare ulteriormente le forze aeree albanesi.